NEMI CONVISTATO! Muoverti, forza! NEMI CONVISTATO! NEMI CONVISTATO! Attack! A presto! UCCIDETELO! Io vado! UCCIDETELO! Richiediamo supporto aereo! Attacco dal bianco! Io vado! Nemico avvistato nel mio settore! Vado! No! Circontiamolo! Io vado! Chi lo vede questo danno? Accettiamolo! E' nel bersaglio! Attacco! Attacco dal piano! Attacco dal piano! E vuoi ancora radello? No frette, mi vado a prenderlo! Ora morirai! Maledetto! Muoversi, muoversi, volta! Circontiamolo! Tra cioccoli! Riparazzi! Oh, 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 oh! That's a bugger! Stop it! Ah! Oh! Attacco! Trovate un rifero! C'è una pietà! Non fatelo fugire! Attacco! Attacco! Accettiamolo! Ad attacco! Go! Go! Agh! Oh! Agh! 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 Ah! Ah! Ci incontiamolo! Perlu parti! Facciamo la scena! Fatelo fuori! Attacco dal pianco! Muovete! Accettiamolo! 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 Facciamo a sparare! Facciamo la finita! Accettiamolo! 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 Non posso convivere! Accettiamolo! 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 ...Sanguina parco! E' il suo riparo! Mio, che lavaggio! Mio, che lavaggio! Muoversi! Città di puttana! Ripararsi! Uccidetelo! Vedo il bersaglio! Sono senza attacco! Sono senza attacco! Ora riesco a venerlo! Sacco l'unico! Machi, e arriparo! Sacco l'unico! 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 No, 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 no! No, 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 no! È stato grandioso! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì.